L'ora esatta è offerta da... Ben ritrovati cari telespettatori con la nostra informazione. Ultimo giorno ad Alessandria per Io Lavoro, la manifestazione regionale dedicata a chi è alla ricerca di un'occupazione. Due mila le persone che si sono presentate per portare i propri curriculum e per sottoporsi a colloqui davanti a rappresentanti di 52 aziende che hanno aderito all'iniziativa. Due mila iscritti per passare davanti agli occhi attenti dei rappresentanti di 52 aziende e agenzie per il lavoro. E' arrivata anche ad Alessandria la manifestazione Io Lavoro, un vero e proprio contenitore di opportunità per tutti quelli che cercano un'occupazione o che vogliono conoscere il mondo aziendale e scoprire le opportunità legate all'autoimpresa. Una due giorni fitta di colloqui, organizzata alla casa di quartiere di Via Verona, dove ieri si sono presentate persone di tutta l'età, alcune anche in gravidanza. Un curriculum da consegnare, una presentazione a voce di quelle che sono le ambizioni, ma soprattutto le speranze. Le aziende più gettonate, S. Lunga, Decathlon e Bulgari. Ma tra tutte quelle prescelte dai candidati, anche chi si occupa di nuove tecnologie e di sviluppo delle cosiddette app. Ormai diventate a pieno titolo le nuove enciclopedie del sapere e dell'intrattenimento multimediale. Oggi la seconda e ultima giornata, poi nel pomeriggio una conferenza dove l'assessore alle politiche attive del lavoro, Mauro Cattaneo, insieme al sindaco di Alessandria, Rita Rossa, presenteranno i risultati di una job fair che si spera possa realmente portare all'attivo anche l'assunzione di nuove forze all'interno delle aziende partecipanti. Ma un primo bilancio lo si può già azzardare. Chi si è presentato ha le idee chiare e molti curricula, sono stati definiti dai tagliatori di test interessanti con buoni spunti propositivi. Oltre agli stand allestiti dalle imprese, all'interno di Io Lavoro sono contemplati anche incontri, laboratori e workshop dedicati alla ricerca attiva e alle problematiche del lavoro. Un'informazione su tutte, anche a chi si appresta a presentarsi a un prossimo colloquio. Lasciamo stare i curriculum europei. Sono facili da compilare, ma non danno spazio alla fantasia di un individuo, la cui personalità non la si può di certo esprimere con un semplice format precompilato. In un contesto di cauto ottimismo sulla ripresa economica del nostro paese e del Piemonte, ha commentato l'assessore regionale all'istruzione, lavoro e formazione professionale Gianna Pentenero, iniziative come queste rappresentano un'esperienza felice di politica pubblica che mira a mettere in contatto chi ha la ricerca di un'occupazione con le imprese che richiedono mano d'opera specializzata. È importante per me avvicinare scuola e mondo del lavoro per valorizzare quel sistema duale che vede nella sua alternanza e nell'apprendistato le forme più consuete e che può considerarsi un mezzo per la sfida alla disoccupazione giovanile. Congresso Mondiale delle Camere di Commercio all'ingotto di Torino, 1200 partecipanti da 120 paesi discutono sui grandi temi dell'economia globale, sullo sfondo la riforma degli enti camerali. Carla Ruffino Dagli atolli del Pacifico all'Eritrea, dalla Guinea ad Haiti, dall'Afghanistan al Bangladesh, sono 120 paesi, 31 in via di sviluppo, presenti al Congresso Mondiale delle Camere di Commercio. Gli Olimpiadi delle imprese si svolgono fino a venerdì all'ingotto di Torino per la prima volta in Italia. I numeri sono da grande evento, 1200 partecipanti, 4 assemblee plenarie, 25 workshop, 700 incontri tra aziende e 14 organizzazioni internazionali e 11 delegazioni straniere presenti. Al centro dei lavori i grandi temi dell'economia globale, l'emergenza occupazionale, le migrazioni, l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Per noi è un grande onore, ha detto in apertura il Presidente della Camera di Commercio torinese, Vincenzo Ilotte, ospitare a Torino questo grande evento. Le persone che influenzano l'economia del mondo intero si sono sedute intorno a un tavolo a ragionare con noi del mondo camerale. Dalle testimonianze dei delegati risulta che ai governi di tutto il mondo le Camere di Commercio chiedono in primo luogo infrastrutture e certezze normative, un altro aspetto ricorrente è l'accesso al credito, altri ambiti di attività sono le fiere commerciali, le missioni all'estero, la formazione per l'imprenditoria giovanile e femminile, gli incubatori di impresa. Sullo sfondo dell'evento la riforma degli enti camerali. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento, ha spiegato ancora i lotte, e riconosciamo al Governo di aver avuto coraggio, ma l'obiettivo deve essere quello di renderci più efficienti e veloci senza perdere incompetenze e responsabilità. Il Congresso è una grande occasione per discutere, ha confermato il Sindaco di Torino Fassino. Le Camere di Commercio sono lo strumento privilegiato di cui il mondo economico dispone per la circolazione delle idee e per il dialogo con i mercati sempre più globali. Intanto, davanti all'ingotto, un gruppo di dipendenti degli enti camerali piemontesi ha inscenato un sit-in contro le scelte del Governo che, dicono i sindacati, mettono a rischio servizi e posti di lavoro. Disagi per chi deve viaggiare in treno. Inizierà questa sera alle 21 lo sciopero dei ferrovieri indetto dai sindacati regionali della Fitte CGL, Fitte Cisle e da Will Trasporti. Alla protesta hanno dato la loro adesione anche le rappresentanze sindacali dell'UGL, Faste e Orsa. Tutto è stato generato dall'annuncio dato dalla Regione Piemonte di mettere a gara il trasporto ferroviario dividendo il quadro regionale in tre lotti, metropolitano, centro-sud e centro-nord. La protesta durerà 24 ore. Domani a Torino, intanto, davanti alla sede del Governo regionale in Piazza Castello, si terrà una manifestazione di protesta sempre organizzata dai sindacati dei ferrovieri. Sono complessivamente 65 gli indagati della mega inchiesta sul traffico illecito di rifiuti sotterrati in terreni agricoli e cave nelle Valle Scrivia scoperta dai carabinieri del NOE e della Guardia Forestale. Fra gli indagati il GIP presso il Tribunale di Torino ha disposto gli arresti domiciliari per l'imprenditore di Tortona, Francesco Ruberto, e per il figlio Daniele, responsabile della ditta Idrotecnica e Ruberto S.P.A. Arresti domiciliari anche per Sandro Gandini, titolare di un'azienda di autotrasporti di Voghera. I tre per la procura distrettuale antimafia di Torino sarebbero i cervelli dell'organizzazione i quali, oltre a indicare le zone del Tortonese dove venivano occultati i rifiuti, avrebbero gestito anche la parte tecnica con l'ausilio di aziende specializzate nel Movimento Terra. Secondo quanto avrebbero accertato gli inquirenti, nella zona di Tortona sarebbero stati portati i rifiuti provenienti dall'azienda agricola Agostino Zanotti di Voghera, i cui titolari risultano presenti nell'elenco degli indagati da parte della Guardia Forestale dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico. Sono due banditti pugliesi gli autori di una serie di rapine e furti commesse in Piemonte, in particolare in provincia di Alessandria. I due identificati come pendolari della rapina sono stati identificati e arrestati dalla squadra mobile della questura di Alessandria. Mentre vi parliamo è in corso una conferenza stampa da parte del capo della mobile Mario Paternoster durante la quale vengono illustrati i dettagli della cattura. Va a processo il proprietario di un pitbull che azzannò un cane legato alla catena, ferendo anche i padroni di questo animale. Ma finisce sotto inchiesta anche uno dei due aggrediti che con una roncola uccise il pitbull. Ci racconta questa storia Emma Camagna. I pitbull, si sa, sono animali difficili e spesso pericolosi, per cui vanno costuditi in modo adeguato. Non lo fece Michele Orepice, 35 anni via Borsalino, e le conseguenze non furono da poco. Il cane venne ucciso con una roncola dopo che ne aveva ridotto uno in fin di vita, una femmina allevata per la caccia legata alla catena, e aveva ferita Morsi, il proprietario e il figlio, che tentavano di sottrarla alla sua furia. Orepice sarà processata a novembre dal giudice di pace per lesioni a Ivano Ceccone, operaio di 40 anni, e al figlio ventenne Gerardo, ferite specie alle mani giudicate guaribili in dieci giorni, mentre Ivano Ceccone è sotto inchiesta per uccisione di animale, reato di cui si risponde in tribunale. Tutta venne a Cascina Grossa il 28 agosto 2013. L'operaio, rientrato da una commissione, vide il figlio, sporco di sangue, vicino al cane ferito che perdeva brandelli di carne. Si slanciò in difesa di entrambi, fu a sua volta aggredito e perito, prese una roncola e uccise il pitbull. Il padrone dell'animale imperocito fu identificato in Orepice, che padre e figlio Ceccone, assistiti dall'avvocato Silvio Bolloli, querelarono il giorno dopo. Ora sono parte civile. Il loro cane per fortuna si è salvato. Laurea Honoris Causa in comunicazione e cultura dei media, ieri a Torino per lo scrittore Alessandrino Umberto Eco. Vi auguro di arrivare alla mia età e di riterare titoli come questo, ha detto alla platea, e poi con la sua solita personalità critica, se l'è presa con i social network, con i social, parola a legioni di imbecilli. Questo ha detto. Semiologo, scrittore, filosofo, docente di fama internazionale, Umberto Eco ha ricevuto 39 lauree Honoris Causa nella sua carriera da università italiane, europee e americane. L'ultimo ha voluto consegnargli la Lateneo Torinese, dove lo scrittore si è laureato in filosofia nel 1954 e dove è tornato per ottenere il nuovo riconoscimento. È stato il rettore Gian Maria Iani a conferirgli il titolo di dottore in comunicazione e culture dei media, per avere, si legge nelle motivazioni, grandemente arricchito la cultura italiana e internazionale nei campi della filosofia, dell'analisi della società contemporanea e della letteratura, per aver rinnovato lo studio della comunicazione e la teoria semiotica e per la sintesi originale di teoria, intervento culturale e scrittura letteraria, che caratterizza la sua vastissima produzione. Ecco il commento dello scrittore, poco prima della cerimonia. Dopo 61 anni torno a laurearmi in questa università. All'inizio mi pareva una follia, poi ho pensato che molte persone prendono due lauree nella stessa università e quindi, perché sia sempre stato contrario a questo cattivo costume, va bene, accetto e rivedo compagni di scuola e compagni di università. E a proposito di laurea, l'Istat pubblica i dati sulle facoltà che hanno maggiore successo nel mondo del lavoro. Al primo posto c'è ingegneria, male, giurisprudenza e a causa della durata dei corsi post laurea anche medicina, che comunque resta anche la facoltà con maggiore successo in ambito occupazionale. Un tempo una laurea era il cosiddetto pezzo di carta che meglio di altri garantiva un lavoro immediato, a lungo termine e ben remunerato. Ma oggi, conseguire al massimo titolo di studio ancora la stessa cosa? A dircelo è l'Istat, che ha stilato una classifica sui maggiori rendimenti del post facoltà. E ad uscirne vincente è ingegneria, soprattutto quella civile, che garantisce i maggiori sbocchi professionali e occupazionali. Ben l'80% di chi l'ha scelta ha infatti trovato un posto di lavoro. Bene anche l'ingegneria chimica farmaceutica, che invece ha al suo attivo il 70% dei laureati. Pur scendendo di percentuali, non va malissimo neppure per le facoltà letterarie. In questo caso è quasi il 50% ad avere un posto garantito, anche se in questo caso, come in altri che vedremo tra poco, molti dei laureati devono seguire i corsi post laurea che di fatto allungano i tempi di un inserimento lavorativo. E per l'Istat sale a più del 50% il numero di chi si trova ad affrontare questo ITER, a distanza di tre anni dal conseguimento del titolo di studio. Ma le chi, nel ventaglio delle facoltà, ha scelto quelle giuridiche e mediche. Qui i numeri sono davvero pochi incoraggianti. Solo il 38% ha un lavoro stabile, il 14% lo fa saltuarialmente, mentre il 25% sta ancora cercando un'occupazione. Ma ad essere maggiormente penalizzati sono di sicuro i medici, che come chi ha optato per una facoltà giuridica, devono affrontare lunghi ITER post laurea per le proprie specializzazioni. Meno di un quarto ha un posto fisso, anche se comunque medicina, una volta terminati tutti i corsi. E la laurea, che ancora oggi, garantisce in assoluto di trovare un posto di lavoro. Infine uno sguardo alle lauree triennali. Bene per infermieri ostetriche, il 70% trova immediatamente la propria strada, seguiti dalle tecnologie informatiche, specialità sempre più richiesta, anche grazie al continuo proliferare di strumenti elettronici. Male invece anche qui, la laurea breve a indirizzo giuridico, con solo il 21% di chi la scelta che può vantare un lavoro fisso. Ma più in generale, va detto che l'ISTAT ha rilevato che comunque, se università deve essere, che sia quinquennale, visto che più in generale è il 56% che può dormire, sonni tranquilli. Con un SMS è possibile avvisare la popolazione per ogni necessità o emergenza. Succede a Serravalle Scrivia con una nuova e innovativa piattaforma di cui ci parla Enrico Marià. Entrerà in funzione nel mese di giugno il nuovo servizio di allertamento predisposto dal comune di Serravalle Scrivia. Il sistema consentirà di inviare in pochissimi secondi una grande molle di messaggi email, SMS ed avvisi su smartphone in grado di raggiungere i cittadini in modo molto più rapido rispetto alle comunicazioni tradizionali. La novità sarà impiegata sia nel caso di emergenze gravi che per le attività ordinarie della vita del comune, affiancandosi agli attuali sistemi di informazioni alla cittadinanza come i pannelli a messaggio variabile ed il sito internet istituzionale dell'ente. Il nuovo servizio, completamente gratuito, è un'applicazione per smartphone chiamata Flag Me disponibile per iPhone, Android e Windows Phone. Si tratta di una piattaforma completamente informatizzata sulla tecnologia Nautis, realizzata da un'azienda che da più di 20 anni si occupa di strumenti per l'emergenza e messa a punto in collaborazione con enti di soccorso e protezione civile. Come sottolinea l'assessore Pasquale Vecchi, traendo esperienza dai dolorosi eventi alluvionali dell'autunno scorso che hanno duramente colpito la nostra comunità, ho scelto di adottare strumenti innovativi per avvisare tempestivamente i cittadini in caso di necessità e di emergenza. Ma come funziona il servizio? Semplice. Che si tratti di un'allerta meteo, di chiamare a raccolta squadre di soccorso, di avvisi di interruzione di servizio, ad esempio la chiusura straordinaria delle scuole, o importanti limitazioni al traffico veicolare, o comunque di pubblica utilità, il sistema è in grado di inviare messaggi ed allegati in modo automatico e perfino di adattarsi al crescere della severità dell'evento. E se necessario, il comune può anche ottenere riscontri di avvenuta ricezione. I cittadini interessati potranno decidere come ricevere gli avvisi, scegliendo tra email, sms e notifiche attraverso smartphone. Dopo l'adesione al servizio, i messaggi arriveranno automaticamente, così da consentire ai cittadini in tempo reale di agire a tutela della propria incolumità, o nei casi meno gravi, di adeguarsi alle circostanze segnalate. Proseguono nella diocesi di Aquiterme le visite pastorali di Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, vescovo della città termale. Fra le 110 parrocchie, molte delle quali si trovano al confine con la provincia di Savona e quella di Alessandria, le prossime tappe saranno le chiese parrocchiali dell'Ovadese. Sentiamola allora in questa intervista che ha realizzato per noi Bruno Mattana. Sì, con noi il vescovo diocesano Monsignor Micchiardi per parlare delle visite pastorali. Quest'anno sarà particolarmente dedicata alle parrocchiali dell'Ovadese, ma non solo, no? Sì, ho iniziato l'anno scorso, a novembre, la terza visita pastorale alla diocesi. Dopo aver visitato negli ultimi mesi dell'anno scorso la zona della diocesi che si trova in provincia di Savona, ora sto visitando le parrocchie che sono attorno ad Ovada. Visiterò anche la parrocchia di Ovada. Il periodo dedicato a queste parrocchie va da maggio fino a ottobre. Terminerò poi, a Dio piacendo, l'anno con la visita alle parrocchie che si trovano nella zona che va da Acqui verso Alessandria. Sono 115 le parrocchie della diocesi ampia, molte parrocchie però sono piccoline, comunque tutte meritano di essere visitate e di essere incoraggiate a vivere la vita cristiana secondo l'indicazione che ci dà Papa Francesco. Perché sono importanti queste visite pastorali, questo rapporto diocesi e comunità locali? Sono un dovere del Vescovo, sancito proprio dal diritto canonico. Il Vescovo deve visitare queste comunità per tenersi a contatto con loro, per incitarle a vivere bene la vita cristiana e per vedere anche le cose belle che si operano in esse, e eventualmente fare delle osservazioni su atteggiamenti che non sono conformi all'impegno che la comunità cristiana deve avere. Un impegno non da poco, penso. Un impegno non da poco, però un impegno che dà anche tanta soddisfazione, perché il Vescovo in questo modo scopre anche tante realtà belle che sono nascoste e che pur ci sono in mezzo alle nostre comunità cristiane. E queste è l'occasione. Certamente, certamente. Spettacolo di fine anno ad Alessandria per attori un po' speciali che hanno portato sul palcoscenico tutta la loro bravura e contagiosa simpatia. Alessandra De La Cà. Sono persone eccezionali e proprio per valorizzare la loro unicità, il Laboratorio Teatrale per persone con disabilità e non, che si chiama Teatro nello Spazio, ha messo in scena lo spettacolo di Norma la Vita, il quale ha chiuso un percorso nato proprio per stimolare questi attori a tutti gli effetti. Sul palcoscenico, ospiti disabili, operatori, educatori ed artisti, tutti impegnati ad andare oltre se stessi per entrare in relazione con l'altro. Lo spettacolo, andato in scena al Cinema Teatro Ambra di Alessandria e alla Casa Quartiere di Via Verona, verrà riproposto sotto forma di estratto ancora al Teatro Alessandrino, a partire dalle 21, il prossimo 18 giugno. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato andrà all'associazione Giada Onlus Diabetici Junior, promotrice dell'iniziativa. Infine, sabato 26 settembre, si terrà l'ultima replica presso il complesso monumentale di Santa Croce a Bosco Marengo, nell'ambito della manifestazione nazionale Abilitando, dove la tecnologia incontra la disabilità. Capofila del progetto Teatro Nello Spazio è il Cissaca, il consorzio dei servizi sociali dell'Alessandrino, mentre la parte operativa didattica è di competenza dell'associazione Giada Onlus in collaborazione con il Mondo Di. Moltissimi i partner coinvolti nel percorso, che gode del patrocinio del Comune di Alessandria e del contributo dell'associazione nazionale DLF. Tra poco la pagina sportiva si sta svolgendo in questo momento presso lo stadio Mocca Gata, la conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Scienza, nuovo allenatore dell'Alessandria Calcio per la prossima stagione. Nell'edizione di questa sera sentiremo le prime parole rilasciate dal neotecnico grigio ai nostri microfoni con la società che ha annunciato ufficialmente la trattativa con un comunicato stampa sul proprio sito apparso nella giornata di ieri. La pagina sportiva è curata da Gianluca Ardiani, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguita, arrivederci.